Ciao ragazzi, oggi voglio presentare questa nuova linea amo essere biologico da parte di Eurospin. È dedicato ai consumatori responsabili che hanno fatto della sostenibilità uno stile di vita. Infatti questa linea amo essere biologico è pensata per un'alimentazione quotidiana sana genuina e consapevole. Vi faccio vedere nello specifico che cosa mi hanno inviato. Allora innanzitutto qui abbiamo le gallette di riso ricoperte con cioccolato fondente sono 100% vegetale senza glutine poi qui abbiamo altre gallette di riso al cioccolato fondente invece qui sono al cioccolato al latte qui troviamo l'olio extravergine biologico di 750 ml poi qui troviamo la passata di pomodoro bio di 680 grammi qui troviamo i triangolini mais e legumi bio sono un pacchetto di 80 grammi non sono né fritte senza glutine e hanno una fonte di fibre e proteine poi qui troviamo le gallette di mais bio di 120 grammi e questi di qua sono sempre senza glutine a basso contenuto di grassi infine abbiamo qui il la bevanda non è un latte è una bevanda di avena di un litro e a basso contenuto di grassi naturalmente senza lattosio ringrazio Eurospin che mi ha dato la possibilità di poter testare questa nuova linea amo essere biologico che troverete comunque nei supermercati Eurospin ed è adatto per tutte le persone che amano mangiare in maniera biologica